ottica saracino tradizione d'esperienza che si tramandano dal 1967 da ben tre generazioni curiamo la scelta dei prodotti per il cliente e puntiamo al giusto rapporto qualità prezzo offriamo una vasta gamma di articoli di marche rinomate garanzia post vendita investiamo in professionalità e tecnologia attraverso attrezzature all'avanguardia siamo specializzati nel montaggio di lenti progressive applicazione di lenti a contatto di tutti i tipi montaggio e verifica in loco dell'approntamento degli occhiali montaggio secondo normativa ISO qualità, convenienza, cortesia e disponibilità e allora proprio per vederci meglio vi aspettiamo ottica saracino via Liguria 44 Taranto